Salve ragazzuoli, come va? Tutto bene? Oggi andiamo ad allenarci a Lido Siesta a Francavilla al mare. Dico andiamo perché non sono solo io, con me ci sarà Francesco Antonucci e Antonello De Rosario. Adesso sto andando a prendere Francesco a casa, vediamo come va, sicuramente sarà una figata. Sessione light sia per me che per Fra, tanto non so che intenzioni abbia, vediamo ancora. Arrivi a casa di Francesco Antonucci e ti aspetta così. Ciao! 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 Per ora questo è tutto, se vi va iscrivetevi al canale, nuovi contenuti se non arrivo nelle prossime settimane, bella!